Non è ancora aritmetica, ma senza dubbio la vittoria all'U-Power Stadium di Monza per il Frosinone è un successo importantissimo, fondamentale, che avvicina la salvezza perché ora è gialla-azzurra. Contro l'Udinese avranno due risultati su tre, manca un solo punto al Frosinone per conquistare quella che sarebbe la prima storica salvezza in Serie A. dall'U-Power Stadium di Monza, Frosinone batte Monza 1-0. Rete di Kettina.